Non è bastato il freddo tanto e la pioggia pungente e praticamente incessante per tutto il giorno a limitare l'affluenza di pubblico alla prima giornata di prove del Gran Premio del Made in Italy all'autodromo Enzo e di noi Ferrari di Imola. Sono state circa 40.000 le persone che venerdì hanno assistito alle prove di qualifica per la gara del sabato vera novità di quest'anno per il circuito del Santerno, la Sprint Race e stando a quanto prevedono gli organizzatori, tagliandi alla fine della tre giorni imolese potrebbero arrivare a quota 150.000 venduti. Intanto confermate anche le frecce tricolori che domenica, poco prima della partenza del GP del Made in Italy, sorvoleranno i 5 km d'asfalto per uno spettacolo unico ed emozionante. Intanto in città si infittiscono e proseguono le iniziative collaterali con musica, cibo, vino e momenti di divertimento post competizioni del motorsport.